bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di notizie per quello che riguarda il futuro di fortnite e non solo nel video di oggi infatti tratteremo uno degli argomenti più importanti che si stanno facendo strada nei vari forum di fortnite ovvero sia cosa conterrà la patch 13.20 programmata di già e dopo vi farò sapere quando ma parleremo anche di un altro argomento caldissimo ovvero sia il ban di dottor disrespect da twitch vedremo un po cosa è successo c'è un grande alone di mistero su questa faccenda veramente che ha dell'incredibile prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi e parliamo appunto degli aggiornamenti che fortnite si promette di sistemare con la patch 13.20 andiamo a dare il primo che dice la velocità del deltaplano è lenta in determinati momenti infatti molti giocatori hanno il bug del deltaplano quindi non si riesce a scendere correttamente i replay non vengono salvati su ps4 anche questo un problema non da poco la barra dei punti esperienza potrebbe visualizzare un importo errato questo succede per tutti gli utenti di qualsiasi piattaforma è capitato anche a me in game fai una missione te la calcola male ti fa vedere che passi il livello ti dà le ricompense però poi rientri nella partita dopo in game e sei ancora al livello precedente e ti manca magari un pezzettino per terminarlo quindi si sterano anche questo la ricompensa ovviamente viene data al raggiungimento del livello e i danni da caduta durante il lancio da una zipline li prendi quando vai nelle acque profonde questo succede soprattutto nella zipline vicino a fattoria mi è successo due volte e crepi c'è niente da fare vai giù e muori prendi il danno da caduta molte zipline non hanno questo problema ma alcune ce l'hanno non è finito perché le versioni epiche e leggendarie delle smg non possono essere aggiornate e poi il sip pack che sarebbe le splash in poche parole non guariscono quando si è dentro un cespuglio e i bottini invece a volte possono lasciare un bottino sott'acqua altro problema che succede ad esempio nel drop vicino alla fortiglia quello dove c'è il cavo aperto tu entri apri il drop e ogni tanto il loot va sottoterra e non è più recuperabile quindi tanti aggiornamenti che sono nient'altro che la punta dell'iceberg di questa patch 13.20 che è programmata molto probabilmente per mercoledì 1 luglio mercoledì 1 luglio data importante perché vi la faccio vedere in questo momento c'è una sostanziale differenza tra la mappa che conosciamo adesso e la mappa che cambierà il primo luglio alle 7 del mattino quindi un'ora in anticipo rispetto alla data di uscita di tutte le patch negli ultimi mesi che vengono fatte appunto alle 8 sappiamo che la data di modifica dell'acqua il livello dell'acqua sarà il 7 il primo luglio alle 7 perché ce lo dicono i countdown nei file di gioco la mappa sotto di me è quella che vedremo la mappa a destra invece è quella attuale vi faccio vedere delle modifiche notandole leggermente di più con questa immagine mi tolgo io un secondo che così potete capirla meglio e come vedete ragazzi nella parte di destra dove c'è foschi c'è un sacco di terra in più su foschi quindi probabilmente riusciremo ad accedere meglio alle varie strutture ma se andiamo anche a sinistra del frutteto vediamo proprio dove c'è fattoria alla sinistra di fattoria che entrambe le zone hanno un bel po di cambiamenti il cambiamento più grande poi ovviamente lo notiamo nella parte sinistra della mappa proprio qua sotto di me dove appunto le terre emerse sono molto di più per il resto la mappa rimane più o meno uguale staremo a vedere quanto sarà il dislivello e vi ricordo che ci saranno altre fasi dove emergeranno nuovamente più terre e quindi più location ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un argomento molto curioso tutti conosciamo i fanco pop di fortnite ne esistono veramente tantissimi riprendono le skin più famose del gioco ma per chi li colleziona arriva una bella notizia c'è un utente che ha un po spoilerazzato su reddit l'arrivo di quattro nuovi fanco pops dedicati ai nuovi eroi chiamiamoli così di fortnite agli agenti il primo sarà midas però in una versione metallic non sappiamo bene cosa voglia dire poi abbiamo tnt tina abbiamo miascolo e abbiamo l'eternal voyager quindi quattro nuovi fanco pops non si hanno purtroppo fotografie ma il post è veramente molto visitato in queste ore quindi la persona che l'ha pubblicata è anche abbastanza affidabile appena ci saranno ve le farò vedere anche a voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri vi avevo mostrato una fotografia del pompa dragon quello che sappiamo essere in lavorazione nei file di gioco ma del quale in realtà non abbiamo ancora visto una reale immagine quella che vi stavo facendo vedere ieri è la versione di salva al mondo indicativamente questo pompa funziona in questo modo come appunto vi avevo anticipato lui spara quattro colpi alla volta che fanno un danno a splash quindi un danno in un'area circoscritta stiamo vedendo appunto come si comporta contro gli abietti e vedete che ci sono i pallini che oltre a colpire il primo fanno veramente danni anche a tutto ciò che gli sta intorno non sappiamo se poi questi danni verranno anche spostati sulle strutture e ovviamente non sappiamo se nel battle royale si manterrà questo tipo di colpo in questo pompa davvero particolare ma devo dire veramente molto molto carino da vedere perché quel rosso lì mi mancava assolutamente anche qua i danni li sappiamo guardate il mio video news di ieri se li volete scoprire non appena avremo dei video ufficiali nel battle royale ve li farò vedere andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è lui ragazzi dottor disrespect uno degli utenti di twitch con più iscritti al mondo attualmente o meglio l'ultima volta che io l'ho guardato era decimo al mondo con quasi 4 milioni di utenti forse qualcosina in più ma c'è un enorme alone di mistero che si sta espandendo in queste ultime ore dottor disrespect è stato bannato per sempre da twitch e nessuno in realtà sa la reale motivazione diciamo che negli anni lui si è un pochettino accaparrato la fama ovviamente del grande pubblico ma anche la fama di essere come dire tutelato dai bann su twitch lui ha fatto delle cose che non dovevano essere fatte la sospensione del suo account è arrivata per la prima volta l'anno scorso quando durante le tre di los angeles riprese un minore in bagno mentre stava facendo uno stream dal bagno delle tre quindi ha violato delle regole molto gravi e ha preso parecchi giorni di sospensione però ha violato molte volte anche le norme sul copyright soprattutto quelle che stanno che stanno avendo abbastanza riscossioni tra parte da parte degli utenti su twitch e la cosa più grave che potrebbe essere il motivo del ban ha detto in live e parliamo davanti a 30 40 mila persone che ci sono state delle cospirazioni sulla nuova sulla pandemia che sta appunto affliggendo adesso il mondo sono argomenti molto sensibili che twitch non approva o comunque molto rigido su determinate cose quindi su twitch non si parla di politica non si parla di religione non si fanno commenti razziali ma questo è la base è la base ovviamente della della buona educazione e dell'intelligenza delle persone non si può non si può parlare di argomenti gravi che scuotono a questo livello anche la popolazione mondiale abbiamo un velocissimo estratto prima di salutarvi proprio della sua ultima trasmissione in diretta e come vedete ragazzi è visibilmente provato non non riesce a parlare addirittura ha il labbro che gli trema le guance che gli tremano perché giustamente gli viene gli viene un po da piangere diciamo anche perché comunque dottor guardate che manda giù in questo momento deglutisce non riesce neanche lui a esternare i suoi sentimenti quindi un grande un altro grande di twitch che ci abbandona forse noi l'abbiamo vissuto un po' diversamente da come si è creato la sua community in quanto giustamente guardiamo gente che parla la nostra lingua lui parlava in inglese insomma ragazzi anche per oggi tante news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video vi ricordo che oggi è domenica non c'è la live noi ci rivediamo in stream su twitch domani alle 8 del mattino ciao